Più di un'ora e mezza è il tempo a disposizione del ladro che ha devastato il centro anziani di via del sommergibile ad Ostia. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il primo tentativo di intrusione delle 2.30 e poi l'accanimento sui distributori di snack delle 3.40 con la sirena che suonava inutilmente perché nessuno è intervenuto fino al mattino seguente quando un associato ha dato l'allarme. Quello della scorsa notte è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi simili. Questa sarà la quindicesima volta. Tutto il centro sono rubati già tutto, adesso abbiamo messo tutta la cosa in plastica quindi fortunatamente non lo toccano più. Però rompono sempre i vetri, entrano dentro, fanno dei danni e purtroppo chi ne riesce a rimettere tutti quanti è tutto al centro. Tutte le persone, gli iscritti sono loro malgrado. Oggi per esempio non vedono la televisione. Ecco, anche in questo caso più il danno, più l'entità del danno che quella del bottiglio. Più l'entità del danno perché non si sono portate via niente. Ma quello che hanno fatto ha regato più di 1000 euro di danno che ovviamente poi il centro in qualche modo le farà fronte. C'è da dire che il sistema d'allarme è entrato in funzione regolarmente? Il sistema d'allarme è entrato in funzione alle 3.40 sentito la sala d'allarme del comune di Roma e non lo so, verranno chiamati i vici urbani se sono intervenuti o meno, questo non lo so, non ho idea su questa cosa. Purtroppo una sorveglianza in più non farebbe male. Ecco, forse una vigilanza notturna per i centrenziani, no? Qualcosa del genere, oppure se come noi abbiamo un allarme e le istituzioni come i vici urbani che dovrebbero esserne loro i responsabili intervessero subito e chiamare magari il presidente in qualche modo e io intervengo insieme a loro e invece da perdere 3-4 ore si perdono 3-4 minuti. Dunque siete anche abbastanza esasperati perché insomma non si tratta del primo bisogno, no? Eh sì, infatti questo è il secondo che distruggono proprio il televisore, c'è stato un primo caso che l'hanno strappato per portarlo via e i pezzi cavi d'antenna e d'alimentazione sono rimasti attaccati qui, per cui poi ci dobbiamo sobbarcare di questa spesa nostra qui internamente al centro per poterlo ricomprare. La cosa paradossale è che questa persona ha avuto tutto il tempo di fare quello che voleva perché insomma ha impiegato moltissimo tempo, è rimasto molto tempo qua. Sì, questo è avvenuto anche l'altra volta perché essendo buio questa zona si è illuminata qui internamente al nostro recinto, però fondamentalmente intorno è una zona buia per cui secondo me agiscono anche con una certa calma. La polizia scientifica ha rilevato le impronte e le tracce di sangue lasciate dal malvivente che durante il raid è rimasto ferito, ma qualora non risultasse schedato avrebbe l'impunità garantita. Resta da comprendere il motivo del mancato intervento delle forze dell'ordine.